Musica Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del turismo, in queste giornate si viaggia tanto, si vanno a trovare magari figli fuori dalla propria città o qualche nipote, ma anche si fa qualche piccolo viaggio, i borghi, come sono diventati importanti lungo la penisola, dal nord al sud, e soprattutto se c'è qualche problema col treno, con l'aereo, è possibile ottenere qualcosa, ne parleremo con i nostri ospiti, che ringrazio e saluto subito Silvia Castronovi di Consumer Italia, Associazione dei consumatori, benvenuta Castronovi, e benvenuto e ben ritrovato al vicepresidente del Touring Club italiano, Giuseppe Roma. Benvenuto Presidente, come sempre se avete delle indicazioni da casa, delle richieste, delle domande, c'è Maris Milanese per voi. Anche pronti ad ascoltare tutte le vostre condivisioni, ecco, se avete già scelto delle miente e potete saperne di più, oppure se ancora non avete scelto, potete scriverci tranquillamente al nostro numero Whatsapp, vi ricordo il nostro numero, memorizzatelo sui vostri cellulari, è il 340-880-1035, non per telefonate, ma per messaggi e anche sms, vi aspettiamo anche su tutti i social, ecco, potete condividere anche le foto, su Facebook, Instagram e Twitter, vi aspettiamo. Allora, le chiedo subito, Presidente, sostanzialmente c'è una grande voglia, dopo tanto tempo di pandemia, di poter evalere, di poter fare anche dei piccoli, dei piccoli momenti di relax e anche di vacanza. Vediamo il cartello 1 che abbiamo preparato, sono i dati della Federal Berghie, che sostanzialmente dice che ci saranno in viaggio per il periodo pasquale 11 milioni, oltre 11 milioni di persone, e il 95% resterà sul territorio italiano. Che sta succedendo? Cioè la voglia d'Italia nuovamente di scoprire piccole realtà sconosciute? Beh, sì, era una tendenza già in atto, perché il viaggio all'estero, quello esotico, quello di divertimento, già prima della pandemia, incominciava a essere accompagnato da un viaggio più di conoscenza, di tradizione, di riti, ma certamente dopo la pandemia è scoppiata la voglia di andare nei posti più vicini, un po' perché per una sicurezza di tipo sanitario, un po' perché non ci si poteva muovere, e si è riscoperta proprio l'Italia in tutta la sua bellezza. Io dico sempre che non c'è un metro quadro dell'Italia che non può essere una destinazione turistica, perché c'è la natura, c'è la cultura, c'è la tradizione. Ecco, le faccio vedere allora anche il secondo cartello, che entriamo proprio nella tipologia di viaggio che tutti quanti faremo, molti faranno. Il 31%, secondo questi dati di Federalberghi, andrà al mare, il 30% in località d'arte, attenzione, il 30,8%, il 17% in montagna. Le chiedo, in base alla sua lunga esperienza, c'è tantissima voglia anche di scoprire l'arte sul territorio, non solo, il turismo culturale, c'è andare a vedere anche dei posti che hanno un senso, un significato, insomma, non andare semplicemente a un posto di mare, è così, sta cambiando anche questo. Sì, perché vorrei dire qui ai nostri spettatori che, insomma, quelle percentuali sono anche molto tecniche, però in realtà ci dicono che le città d'arte, i borghi, i luoghi di pellegrinaggio sono pari al mare, che invece una volta sembrava essere la destinazione, soprattutto in primavera, più importante. Ma si vede 32-31%, adesso che vuol dire? Io direi che oggi la destinazione, diciamo così, culturale è ancora più voluta e scelta che non quelle di svago, perché dietro c'è anche una condizione, diciamo così, della cultura e anche del benessere più spirituale e non soltanto quello di vacanza. E ne parleremo tra qualche istante, perché vedremo anche le indicazioni che arrivano proprio dal Touring Club, invece alla Gastronomi chiedo, ma se io prenoto una vacanza, anche due giorni, per rilassarmi, in realtà lo vedo, molti vanno su internet, perché ormai è la fonte principale per poter organizzare una vacanza, vedo una splendida casa dove poter andare, vado lì e trovo una situazione totalmente diversa. Cosa posso fare? Posso chiedere un rimborso, un po', purtroppo non faccio una vacanza come quella che mi aspettavo, però posso ottenere un risarcimento e di che tipo? Assolutamente sì, di tipo economico, il consiglio è sempre quello di prevenire prima di curare, quindi prima di prenotare, cercare di rassicurare e riassicurarsi sul fatto che ci siano effettivamente gli elementi che ricerchiamo nella struttura, quindi magari anche cercare un contatto e chiedere i servizi. Ma devo fare le fotografie? Che devo fare? Ma una volta arrivati lì, se la destinazione è differente da quella che c'era stata proposta, fare fotografie attraverso quelle fotografie, richiedere sicuramente un rimborso economico per la differenza della qualità usufruita, è quella che effettivamente abbiamo pagato. Quindi questo è il consiglio di documentare, di fare una richiesta di risarcimento, di quindi cercare di anche conciliare... Quindi documentazione dettagliata, quindi attenzione se vi dovesse capitare malagoratamente una situazione del genere. Tra poco vedremo anche Treni Aeri, ma prima andiamo a casa dei nostri telespettatori, vero Maris? Un telespettatore purtroppo non si è firmato, ecco, però voglio fare comunque la sua domanda ai nostri ospiti. Lui dice, ecco, vuole sapere, domanda concreta, quali sono le mete più economiche a dei figli, una moglie, dice, magari ecco nel centro Italia, per le famiglie? Giuseppe Roma. Il nostro ascoltatore dice bene, perché il centro Italia, stiamo parlando di un'area molto vasta che va dalle Marche all'Umbria, al Lazio e se vogliamo anche all'Abruzio e al Molise, è un territorio splendido dove troviamo delle cose meravigliose, non dico solo Assisi, ma anche Spoleto, Norcia, ma io direi nel Molise, nel Viterbese ci sono delle località strepitose, quindi io credo che siano anche abbastanza a buon mercato. Poco conosciute spesso. Sono poco conosciute, però per esempio Viterbo è stata anche sede papale, quindi tutto sommato. Ecco, quindi io cercherei nel centro Italia le tante località che hanno delle cose da mostrare, sia d'arte che di natura e penso che si trovino anche delle situazioni alberghiere, non solo di BNB, che possono stare sui 50-60 euro. Castronovi, in 30 secondi ci darei un'indicazione e tra poco faremo un collegamento tra qualche istante su un posto meraviglioso della nostra ostivale, Sliso Adischia, ma prima chiedo a lei dove bisogna andare per non spendere tanto? Allora, per non spendere tanto bisogna, allora, prima di tutto nella nostra bella Italia, ci sono delle regioni che classicamente sono più competitive come l'Emilia-Romagna, ma anche nel Lazio possiamo trovare molte mete e inoltre consideriamo che spesso molte regioni danno delle opportunità per rilanciare il turismo di prenotare tre notti e una notte gratuita, quindi cercare un po' di navigare in maniera consapevole e intelligente. Di essere intelligente dal punto di vista dei consumatori, insomma avere delle opportunità. Dicevamo, ci colleghiamo col Presidente, lo ringraziamo col Presidente degli albergatori di Ischia e Procida della Federale Alberghi, Luca D'Ambra. Benvenuto Presidente, perché? Perché purtroppo l'isola di Ischia, l'isola verde conosciuta da tutti quanti noi, è meravigliosa, un'isola straordinaria, ha avuto dei problemi seri, ricordiamo tutti quanti quell'alluvione che lo ha colpito in maniera terribile, abbiamo quelle immagini ancora scolpite tutti nella memoria e da allora state facendo un'opera per cercare di rilanciare sicuramente, ma anche a livello nazionale, ricordiamo anche l'Enit punta tantissimo per insomma dare nuovamente un'immagine forte, fortissima di quest'isola verde. Come va la situazione? Pasqua avrete un numero considerevole di turisti? Com'è il polso della situazione? Lo chiedo dal Presidente D'Ambra. Buongiorno e complimenti sempre per il lavoro svolto, io vi seguo, quindi sappiamo che ci siete molto vicini. Pasqua si prospetta molto positiva, anche perché c'è stato un grande lavoro di comunicazione che è stato fatto negli ultimi 3-4 mesi a livello nazionale e internazionale, quindi noi possiamo dire sicuramente che partiamo con una stagione a pieno ritmo, il venerdì santo ha dato un po' l'apertura a tutte le attività commerciali, a partire dai ristoranti, le strutture alberghiere, quindi penso che sarà un aprile molto interessante, abbiamo delle proiezioni che sicuramente sono migliori anche già del 2019. ricordiamo che l'anno scorso non lo possiamo prendere in considerazione, quindi diciamo che in questo momento anche da un punto di vista della sicurezza si sono fatti tanti passi avanti, Istia in questo momento è monitorata da software innovativi che sono stati implementati anche a livello internazionale, nel senso che ci ha lavorato l'Unione Europea, come anche il Ministero del Mare. Presidente, quindi c'è una sicurezza e questo è importante non solo per i turisti italiani ma anche per quelli stranieri. Le chiedo, arriveranno soprattutto da dove? È vero che c'è una riscoperta proprio degli italiani da questo punto di vista? voi siete sempre molto legati ai flussi internazionali, ricordiamo i tedeschi che sono molto presenti, ma anche gli italiani, è così? Per noi è sempre bello poter dare il benvenuto ai nostri connazionali, è un nocciolo importante diciamo della fetta di mercato, anche se quella internazionale a partire anche diciamo da quella tedesca, americana e inglese hanno riconfermato in maniera impressionante, anzi abbiamo avuto anche diciamo dei nuovi tour operator che in passato avevano levato Ischia dal loro cartellone, in questo momento si riaffacciano da noi, però chiaramente per noi il mercato nazionale è fondamentale ed è importante. Ecco, le chiedo Presidente, prima... E sarà quello col quale partiremo. Ecco, prima parlavamo in studio anche dell'aspetto economico, perché comunque c'è una crisi economica, la gente, anche le domande che arrivano vogliono località dove non si spenda tantissimo. Da questo punto di vista lì sull'isola c'è un'offerta un po' per tutti, da sempre, no? Mi sembra, per tutte le tasche. Sì, Ischia è riconosciuta per essere un'isola eclettica, quindi mette sempre un po' tutti d'accordo anche dal punto di vista delle passioni che poi si vogliono svolgere durante la vacanza e concordo col Presidente in studio quando dice che la cultura è fondamentale, la cultura è un turismo che permette di essere attivo anche durante i periodi difficili, perché la gente ha la possibilità di tornare a casa arricchita da un punto di vista mentale, appunto, di spirito e questo è effettivamente un focus sul quale il turismo oggi è meglio. Presidente... Sì, è una fetta di mercato sempre più presente. Ecco, da questo punto di vista, proprio una battuta, in 15 secondi, ci dice un posto di Ischia poco conosciuto? Stimoliamo la curiosità appunto da un punto di vista culturale, ci dica un posto che non è conosciuto da tanti. Mi verrebbe da dire la passeggiata dei Pizzi Bianchi, che è un dislivello che parte da circa 500 metri, si fa arrivare ad una cava dove c'è una fonte termale storica menzionata anche da Augusto e quindi c'è questa esperienza che si fa camminare, bagno caldo e poi in versione su spiaggia a mare. Ci ha convinto, Presidente, ci ha convinto. Ci ha convinto, è stato bravissimo, abbiamo appunto preso questo aspetto sicuramente importante e particolare dell'isola di Ischia. Grazie davvero al Presidente della Federe Alberghi di Ischia e Procida perché ci ha dato una testimonianza importante e lo chiedi con la gastronova, è importante anche il cosiddetto turismo sostenibile, no? Perché vuol dire tanto, ma anche aiutare in un momento di grande difficoltà che ha avuto una parte del nostro territorio da questo punto di vista. Perfetto, il turismo sostenibile non è solamente non trovare plastica nella nostra camera d'albergo ma anche sostenere quelle realtà che poi non è così difficile, visto la bellezza, che hanno bisogno di una ripresa anche economica, visto il problema che ha avuto Ischia e quindi l'invito è quello di essere sostenibili in questo senso, di sostenere le realtà che vanno sorrette, insomma. Ecco, Presidente, dicevano prima che anche quell'aspetto religioso è fondamentale. Voi avete fatto uno studio come Touring Club che c'è anche un legame con una serie di iniziative religiose che si svolgono la settimana di Pasqua, dove tanti vanno a guardare le cose, lo vediamo anche dal sito, se è possibile, se Maris ci fa venire da questo punto di vista. Che vuol dire questa serie di iniziative che fate voi come Touring Club, come indicazioni, suggerimenti? Noi abbiamo messo sul nostro sito, abbiamo messo proprio dal Piemonte alla Sicilia tutti i riti che si svolgono nella settimana santa, perché al di là della funzione religiosa e anche per i credenti, questi riti rappresentano una grande tradizione nel nostro paese. e tutto sommato ci sono delle città, dei luoghi, faccio tre esempi, a Mantua ci sono i Sacri Vasi, cioè c'è una processione in cui ci sono le reliquie che vengono portate in processione. Sappiamo tutte le confraternite che in molte città fanno delle processioni significative, ma voglio ricordare le ultime due cose, proprio sulla costiera amalfitana, Sorrento, il Dio Gesù, il Cristo morto, e Taranto, i Perduni. Volevo poi aggiungere una prima cosa per Ischia, è giusto quello che è stato detto su quali sono le località principali, ma ci sono due forme di turismo che stanno emergento, il termalismo, ecco Ischia, e anche i laghi, soprattutto del nord, ma sono due forme che erano molto marginali che stanno avendo un grande successo. Vediamo i nostri telespettori che ci dicono. Enrico, Enrico da Trento è un papà che ha la figlia che vive all'estero e voleva chiedere a Silvia Gastronova, ecco non ho ancora preso i biglietti per l'aereo perché spero che comprandoli insomma più a ridosso forse potrò godere di sconti, sì che ora invece non ci sono. Ecco secondo voi, secondo te Silvia, è una buona strategia? Non molto, mi spiace deludere Enrico perché questa strategia è buona per quanto riguarda le strutture di ricezione, quindi alberghi, case vacanze che praticamente a ridosso delle date previste per i viaggi non vengono prenotate, per gli aerei e per i treni, quindi per i viaggi è meglio muoversi per tempo, quindi il consiglio è quello se si ha intenzione di andare a qualche località di comprare molto prima il biglietto perché si trovano delle offerte a precedenza molto più interessanti rispetto a farlo a ridosso, a ridosso i prezzi aumentano. Gastronova, se prendo il treno e arriva in ritardo, dopo quanto posso avere un rimborso? Qual è il termine utile per poter ottenere un rimborso se dovesse fare ritardo il treno? Allora, il termine è 60 minuti, 120 minuti è del 25%, oltre 120 minuti, quindi oltre le due ore del 50%, ma le frecce, quindi i treni a lunga percorrenza hanno un diritto ad un bonus, quindi non ad un rimborso economico, solamente al bonus oltre la mezz'ora del 25%. Tra poco faremo un altro collegamento, ci collegheremo nel sud Italia, in un'altra località della Calabria, ma prima chiedo al Presidente Roma, vediamo questo cartello, se è possibile, il cartello 3, eccolo qui, sulla spesa degli italiani, pro capita di 500 euro, là insomma hanno una lunga esperienza, da un punto di vista socio-economico, perché c'è la possibilità, perché c'è una situazione anche di crisi economica non indifferente lungo la penisola, soprattutto in molte realtà, c'è però questa voglia di spendere qualcosa per stare qualche giorno fuori casa, come far conciliare le due cose? Dunque, noi sappiamo che ancora dura quel risparmio che si è creato quando non potevamo muoverci, abbiamo messo qualche soldo da parte e oggi c'è questa grande voglia, ma la vediamo anche nelle nostre città d'arte, soprattutto degli stranieri che vengono in Italia, ormai siamo quasi, abbiamo quasi raggiunto il picco massimo del 2019, io penso che 500 euro poi non sono neanche pochi, anzi mi sembra una cifra rilevante, forse per risparmiare qualcosa uno dovrebbe cercare delle sistemazioni, più che il BNB dove abbiamo visto non sempre si trova quello che viene promesso, per esempio gli agriturismi, dove lo stare in un agriturismo gli consente di prendere magari un piccolo appartamento, per cui non paghi la stanza ma paghi l'appartamento, mangi bene, puoi cucinarti in casa e poi stai all'aria aperta che soprattutto in questo periodo aiuta tantissimo. Scusa se mi permetti, sempre termini di sostenibilità anche di alberghi diffusi che rivalutano il territorio e sono molto interessanti con offerte. E allora ci spostiamo ancora una volta al sud Italia, questa volta però in Calabria perché c'è il sindaco di Roseto Capospudico ma soprattutto è presidente dell'associazione Borghi Autentici d'Italia, è presidente di tutti i borghi più particolari del nostro paese hanno creato questa associazione, il sindaco è Rosana Mazzia, presidente, benvenuto allora le chiedo questa riscoperta dei borghi arriverà anche durante queste vacanze perché andare in un borgo autentico, ovunque particolare? Ce lo dica proprio scattando una fotografia. Buongiorno direttore, grazie, buongiorno ai tuoi ospiti e anche ai nostri telespettatori. Perché andare in un borgo? In realtà non è perché andare in un borgo tutto l'anno ma perché scegliere un borgo come meta di un viaggio che possa durare tutto l'anno dove si possano coniugare la conoscenza dei territori con la nostra architettura e archeologia diffusa, con la storia, con le tradizioni, con l'enogastronomia e con una cosa molto importante che è la conoscenza delle persone è la cosa che ci connota. Come borghi la nostra prima priorità è far conoscere tradizioni, luoghi e soprattutto persone. Ecco è vero che tanti vanno a vedere questi borghi e poi oggi anche magari attraverso le nuove opportunità come lo smart working decidono di andarci a vivere. C'è questa crescita da questo punto di vista, le chiedo? È ancora molto lenta questa crescita perché insieme alla volontà ovviamente sono necessarie le strutture e le infrastrutture, quindi per quanto sia stata una delle bandiere della post-lockdown in realtà è ancora tutta da costruire questa opportunità per i nostri bordi. però è vero che c'è una grande richiesta delle località minori, meno conosciute dove è possibile coniugare la vita lavorativa con una qualità della vita migliore magari appunto vista mare, vista montagne o insieme a delle persone che hanno in sé il valore dell'accoglienza che credo sia uno degli elementi che maggiormente ci manca in una dimensione cittadina. L'umanizzazione è importante, stiamo vedendo delle immagini di tanti borghi italiani e le chiedo un'ultima battuta, Presidente, sta riscoperta dei borghi, è solo degli italiani o anche degli stranieri? Perché lo straniero che arriva in Italia punta sulle grandi città, sulle città storiche, Firenze, Roma, immagino tante altre città, ma anche sui borghi c'è un cambiamento di tendenza e gli stranieri vogliono vedere i borghi? E quali stranieri? Proprio in una battuta, se ce la fa rapidamente. Gli stranieri che cercano i borghi sono gli stranieri che hanno già scelto un turismo di sostenibilità, sentivo prima dagli ospiti in studio citare questa parola che da noi è spesso coniugata, quindi per esempio gli stranieri che scelgono i cammini o gli stranieri che scelgono di viaggiare a piedi sono sicuramente degli ospiti che hanno già deciso di conoscere l'Italia, l'Italia minore, quella che ha delle qualità che si coniugano con un'idea diversa della vita e anche del viaggio. Grazie, grazie al Presidente dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, Sindaco di Roseto, capo spulico Rosanna Mazzia. Grazie Sindaco, torniamo in studio con le domande dei nostri telespettatori. Maris. Intanto volevo ricordare, prima abbiamo parlato, l'abbiamo anche mostrato, il sito del Touring Club, basta andare su touringclub.it, ma a proposito di Borghi, ecco come stiamo parlando proprio adesso, se la regia mi aiuta, ecco lo sto mestrando, è il sito bandierearancioni.it, sempre del Touring Club, dove appunto c'è tutta una descrizione sui borghi dell'entroterra con tanti spunti interessanti se ancora non avete delle idee. Poi ve lo ringrazierà la telespettatrice Maria Cristina che ci ha detto, qui a Carini facciamo la processione di Cristo morto e della Madonna addolorata, ecco ci dice anche che comincia alla 21 se volete organizzarvi e andare in Sicilia. Ecco, volevo fare una domanda a Silvia Castronovi, una telespettatrice Maria Cristina dice, domando, quando si prenoto dei posti per il treno, senza dire ovviamente la compagnia e non si riesce a partire in quel giorno, si può avere poi un rimborso? Sì, bisogna vedere le cause per le quali non si può partire in quel giorno, se è uno sciopero che è stato annunciato, purtroppo lo devono annunciare con un determinato anticipo e quindi può essere riprotetta, come si dice, su un altro treno, se queste sono le ragioni. Se sono ragioni di causa di forza maggiore, un problema tecnico o il maltempo, ecco su quello può chiedere un rimborso, però bisogna vedere qual è la causa. Di solito quando si prenota un posto bisognerebbe partire con qualsiasi tipo di compagnia si è prenotato, insomma, quindi è una garanzia del consumatore questo. Presidente Roma, lei conosce benissimo i borghi italiani, è stato anche in un comitato fondamentale per il rilancio dei borghi lungo la penisola, perché scegliere, lo diciamo ai nostri telespettatori, andare magari a Pasqua invece di andare alle mete tradizionali, andiamo a conoscere un borgo, perché? Allora, intanto perché questi borghi, capiamo che sono anche le nostre bandiere arancioni, ci sono dei posti dove c'è da vedere tanto, Piero della Francesca sta a Sansepolcro che sta in un borgo, ma in più c'è un turismo di relax e un territorio, un paesaggio che consente per esempio di fare un turismo all'aria aperta, anche per chi, non solo per i giovani che magari vanno in bicicletta, ma si può fare una passeggiata, non ci sono molto spesso auto, quindi è un turismo sicuro e soprattutto c'è una comunità e una cucina che è rimasta tradizionale. Che è il nostro punto di forza, però dobbiamo fare i conti anche con l'aspetto economico, vediamo il cartello 4, lo chiedo a Castronovi, ci sono dei bonus, è così, che bisogna avere però un ISE non superiore a 20.000 euro, ma che cos'è questo bonus per il turismo, magari chi ha difficoltà economiche, proprio in una battuta? Serve sia a incrementare, a sostenere un po' l'impresa del turismo che è stata molto penalizzata durante il periodo del Covid, ma sia a stimolare, dare l'opportunità ai cittadini di poter... Ma a chi fare richiesta? Allora, prima di tutto bisogna avere l'ISE, quindi bisogna procurare... Un indicatore economico, al di sotto di 20.000 euro. E poi fare la richiesta, se si hanno questa documentazione, ci sono delle piattaforme apposite che lo documentano e quindi usufruire del bonus, perché ogni bonus ha il suo modo di essere usufruito. Maris? Volevo fare la domanda di Anna Maria di Avellino, abbiamo visto, vediamo ancora tante immagini anche di piatti, perché l'Italia è famosa anche per l'ottima cucina, dove andiamo, andiamo e caschiamo bene, insomma. Anna Maria, però, da Avellino, a proposito di piatti, di cucina e di ristoranti, dice ecco, ma quando c'è chi va al ristorante, di solito si trovano i menù fissi, soprattutto nei giorni festidici, ma quando il ristorante è nei giorni di festa, come ad esempio a Pasquetta, dove penso loro vogliono andare, mi costringe a fare il menù fisso, è corretto o meno? Non sono libero di scegliere anche alla carta, avere un'alternativa? Allora, quella è la scelta del ristoratore, solitamente viene fatto così per una questione di organizzazione, ci sono tante persone, quindi anche per garantire un buon servizio il ristoratore stabilisce un menù fisso, ovviamente se la signora Anna Maria ha delle esigenze di allergie, di intolleranze alimentari, lo deve far presente al ristoratore e quindi chiedere una variazione sul menù, perché effettivamente ha delle esigenze serie, ma poi quella è una scelta, di solito c'è chi fa il menù fisso, chi mette anche a disposizione del menù alla carta, ovviamente con dei prezzi differenti, però se la signora ha delle esigenze particolari, ripeto, di intolleranze alimentari, di allergie, lo deve far presente e anche di terza vegetariana. Io vi devo salutare, che è finito qui il tempo, però chiedo, Silvia Cassonovi, la ringrazio, Consume l'Italia, un luogo, dove andrà lei oppure un luogo da suggerire per passare qualche ora in questo periodo di Pasqua? Beh, io ho la Campania e la Puglia nel cuore, quindi... Non ce lo dici, Campania e Puglia, le cinci delle regioni, allora lo chiedo al vicepresidente nazionale del Touring Club Italiano, salutandole e ringraziandolo, Giuseppe Roma, ci dica una chicca. Io andrei, perché poi resterò a Roma, perché arrivano i figli e quindi restiamo in famiglia, però io andrei a Spoleto. Spoleto, questo è il suggerimento del vicepresidente nazionale del Touring Club Italiano, ringrazio davvero agli ospiti per questa puntata, Maris, noi diamo appuntamento invece a domani. Esatto, ringraziamo anche i tanti telespettatori che sono stati con noi, ci hanno condiviso ecco le loro mete per queste festività importanti pasquali, noi vi diamo appuntamento, vi aspettiamo proprio qui alle 10.30 domani per parlare, abbiamo parlato di cucina, ecco domani parliamo della pasta fresca, quindi lasagne, tortelli, gnocchi, tutto quello che c'è da sapere sulla pasta fresca. Beh, domani ci sbizzeremo da questo punto di vista, proprio perché insomma mettete carta e penna per le ricette anche e le indicazioni utili nell'acquisto di questi prodotti. Grazie a tutti quanti voi e come sempre, serena giornata.